Stando a quello che sarebbe presente sul web di oggi, 29 agosto 2018, sembrerebbe che il buon Giorgio Manetti avrebbe deciso che non sarà più sul turnover di Uomini e Donne il programma di Maria De Filippi. Da anni protagonista di questo bellissimo programma, il buon Manetti avrebbe attirato le attenzioni di tutti quanti gli appassionati di questo piacevole programma e soprattutto per quanto riguarda la relazione con la brava, bella e simpatica Gemma Gargani. E così il buon Giorgio Manetti avrebbe deciso, sto usando il condizionale, che non sarà più sul turnover di Uomini e Donne. Sarà vero, sarà falso, corrisponderà a verità tale frase, tale, chiamiamola proposizione, non si sa. Io intanto vi ho trasmesso quello che sarebbe presente sul web di oggi, 29 agosto 2018. Grazie dunque in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni personali, non mi assumo alcuna responsabilità di ciò che avete ascoltato perché ho giustamente utilizzato il condizionale, quindi non mi assumo alcuna responsabilità. Faccio presente che il programma in questione è un programma in cui, secondo me, chi ne fa parte può essere considerato come un personaggio pubblico. Grazie ancora, un saluto nel prossimo video.